Per l'Olimpica basket sfida Casaliglia da vincere domenica al Paladileo. Nella settimana di ritorno della Serie C Silver arriva il Valentino Castellaneta, distanziato in classifica di soli due punti. Entrambe hanno vinto nel precedente weekend i gialloblu a Martina Branca e gli ospiti a Branca Villa. Per il presidente gialloblu Rosario Saracino ci aspettiamo un Castellaneta determinato. Per loro, come per noi, è una partita fondamentale. La vittoria di Martina ci occorre in grancati, tuttavia non possiamo distrarci. Le partite sono tutte difficili. Se vogliamo concludere bene la stagione dobbiamo vincere tutte le sfide casalinghe per attirarci i cuori dalla zona pericolo. La partita comincerà alle 18 e sarà diretta da Padovano di Ruvo e Menelao Mola di Bari. Minno Siena, Speciale News.